Buongiorno Crotone, siamo al 29 di maggio e ci ritroviamo sempre con lo stesso problema, quale? Quello dei rifiuti. Via Magna Grecia, una strada che è sempre più frequentata come arriva il caldo e quindi una strada che dovrebbe essere ripulita dai tanti rifiuti. Non è cambiato nulla dal 25 maggio, giorno in cui si è detto che la Crea avrebbe ripulito Crotone, ma dobbiamo dire lo sta facendo. Siamo alle solite e la situazione però è peggiorata. Infatti in prossimità dei Lidi abbiamo registrato questo video su consiglio di un cittadino che mentre faceva jogging sulla strada ci ha consigliato di fermarci davanti ad alcuni cassonetti per evidenziare quanto diventa difficile non solo il lavoro dei dipendenti di Crea ma anche per i crotonesi, quelli che rispettano le regole. Il video è l'immagine del totale disinteresse di noi cittadini, tant'è che i rifiuti ingombranti sono in crescita, un trend negativo per il periodo che stiamo attraversando. Probabilmente non solo cittadini che arrivano fuori dalla città ma dobbiamo dire, visto che sono iniziati i lavori di pulizia e sanificazione nei Lidi, magari nei bungalow, si ritiene opportuno lasciare tutto per strada. Vorremmo capire come mai ancora su via Magna Greggia non c'è un segnale di presenza della Crea e cogliamo l'occasione per dire in questo momento così difficile e in particolare in questo momento così preoccupante per la salute anche se siamo fuori da ogni pandemia perché non dare alla città un segnale di attenzione e dunque spingere i cittadini ad avere rispetto delle regole siamo alle solite, siamo di fronte ad una mancanza di civiltà, non vogliamo credere a questo, vorremmo solo sensibilizzare i crotonesi della città di Pitagora ad uscire da questo schema di indifferenza verso Crotone e speriamo che possa cambiare qualcosa anche perché la nostra regione potrebbe avere un boom di turisti, visto che siamo fuori da ogni dato preoccupante per il coronavirus. Tra l'altro Crotone è nella lista delle città senza più malati di coronavirus e questo dovrebbe essere il motore delle scelte per tutti, di guardare al futuro con speranza e con l'intento di collaborare tutti insieme. Buongiorno Crotone, iniziamo un percorso diverso che ci faccia sentire una comunità unita e fortemente civile. Ci proviamo?